Alti e bassi di una squadra che ad un terzo del campionato non ha trovato ancora una precisa fisionomia. Dopo la miglior prestazione stagionale di domenica scorsa al Palaminardi contro Venezia, la Passalacqua ha infatti fornito in raschio la prestazione più inguardabile di questo scorcio di torneo. Un successo più che meritato per le case campionesse d'Italia che al giro di Boa ha uno in pratica ipotecato il match 46-32 con l'elastico su questa distanza che ha proseguito fino al termine quando il 90-70 ha decretato la vittoria per le Vicentine. Una Passalacqua apparsi ristanche e demotivata, forse a causa delle troppe partite ravvicinate e dei viaggi. Siamo state troppo molli l'analisi finale di Recupido nel dopo partita e non possiamo permetterci di subire 90 punti in una singola partita, anche se per vincere a Schio si doveva sperare una serata storta delle avversarie. Dobbiamo in ogni caso imparare, dice Recupido, a convivere con le fatiche ravvicinate e i viaggi internazionali. In classifica quindi ancora Schio in testa con 14 punti in seguita da Lucca con 12, mentre con 8 punti Ragusa e in compagnia di Napoli ieri vittoriosa a Vigarano.